I componenti del tavolo Piceno, Acqua Bene Comune, recentemente ricostituito per iniziativa di 14 associazioni, movimenti e comitati attivi nel territorio, sono venuti in possesso del testo dell'accordo che sarebbe stato siglato tra CIP e IREN fino ad ora secretato. I rappresentanti non possono che richiamare l'autorità d'ambito e di comuni social e proprie responsabilità di fronte ai cittadini. Secondo i componenti, l'operazione tradirebbe tutti i principi di trasparenza sanciti nel vittorioso referendum sull'acqua pubblica, paradossalmente proprio a pochi giorni dalla celebrazione del suo decennale. Massimo Rossi fa il punto della situazione. Nel nostro territorio viviamo in questo periodo problematiche legate sia al terremoto sia ai cambiamenti climatici e quindi alla scarsità di risorse idriche. Non solo, alcuni territori purtroppo sono afflitti da un'acqua di pessima qualità. I CIP S.P.A. invece di dedicare tutte le sue energie, tutte le sue risorse nella ricerca di nuovi fondi, nella razionalizzazione del servizio idrico, che ce n'è molto bisogno e ce ne sarà sempre di più, si avventura con un delirio di onnipotenza nel settore dei rifiuti. Il tutto onerosissimamente, con costi di milioni e milioni di euro, per fare una società con IREN spenderebbe circa 9 milioni di euro, poi un obbligo a 37 milioni di investimento in sei anni, tutto nel settore dei rifiuti.